Un cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart, in studio Cesare Martignan. In A1 traffico rallentato tra il bivio A1 variante e Badia viaggiando verso Roma. In A11 verso Firenze corre a tratti tra Pistoia e il bivio A11-A1. Si viaggia incolonnati per traffico in Fipilì tra la Strassigna e Firenze Scandicci in direzione Firenze. Sul raccordo siena Firenze riduzione di carreggiate in entrambe le direzioni per lavori tra Tavarnelle e San Donato. Al via i cantieri a Firenze della nuova variante Fortezza San Marco della Trambia. Che riguardano Piazza della Libertà, Piazza San Marco, Viale Lavagnini, Largo Martiri delle Foibe e Viale Milton. Per interventi di RFI che riguardano il raddoppio ferroviario tra Pistoia e Monte Catini Terme. Circolazione sospesa tra Pistoia e Pescia fino al 29 agosto. Muoversi in Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Altre informazioni sui nostri canali social. Buon viaggio!